Ecco Pino Mangione, il geometra con gli stivali, vi ha sempre abituato a tante novità ma questa che vi sto per dire è davvero eccezionale Ho usato l'intelligenza artificiale per metterti a disposizione una chatbox denominata ZIO PINO che ti aiuterà in qualsiasi tua attività Adesso i nostri software Vera e Immagina avranno un nuovo menu Chiedi a ZIO PINO e lì potrai chiedere dove mettere le piastre fotogrammetriche, a che altezza da volare, le normative sui droni tutto sul rilievo fotogrammetrico da drone e sul rilievo del costruito, anche da terra Insomma è come avere ZIO PINO a fianco a te, anche di sabato, di domenica, di notte Una grande novità e presto uscirà anche l'app con catastro, riconfinamenti, topografia e vai, non ci fermeremo mai E tutto questo solo per te Avrai ZIO PINO con te tutta la mia esperienza di decenni di lavoro a tua disposizione Utilizzala